Stiamo con il capitano di Costa, la coraggiosa Costa, mi ricordo la mia prima intervista quest'anno, eravamo a Crema, sempre contro Sanga, e secondo me è stata un'annata che lì per lì allora non reputavo essere possibile, e forse neanche voi. No, secondo me all'inizio anno non avevamo la percezione di che squadra saremmo diventate, del potenziale che avevamo, che abbiamo, e io sono orgogliosa di essere stato il capitano di questa squadra, di queste ragazze, abbiamo dato tutto quello che avevamo, forse un po' l'esperienza ci è mancata, loro ne hanno avuto di più, però comunque questo sport si vince, si perde, però sono orgogliosa della stazione che abbiamo fatto. Infatti per riassumere tutto in telecronica ho detto che non c'è sconfitta, al solito cose che si dicono, nel cuore di chi lotta, voi avete lottato alla grande per 80 minuti? Abbiamo lottato, l'abbiamo detto anche dopo gara 1, abbiamo detto noi mettiamo tutto quello che possiamo, poi se vinciamo bene, se no noi abbiamo fatto tutto il possibile. Grazie mille. Grazie.